Dunque, ecco voi Carseed Crusade Un gioco che sinceramente non ho idea di cosa sia Ma che proverò per gli amici del forum di Games Village Dunque, come funziona? No, difficoltà, mettiamo una difficoltà media Avviamo Vabbè, mi salto la storia che tanto Ok, finita l'introduzione, piuttosto lunga Adesso potremmo ammazzare qua La gente qua Ancora pensi che templari sono priesti e farmaci? Non prendeci ancora la mano qua Consider this training for the Crusades This Templar's blade is mightier than five of yours Oh, altra storia Che palido With never let fear invest in a fight Perhaps that stem from the burden of the Rae The Templar's curse It is a terrible power And in the coming days We'll shape his future Allora, come vedete, graficamente non è nulla di che La consolata spaziale So qua, uscito da Darksider 2 Sì, sì, è morto Ah sì, anche prima che vedeva un Templare Che si trasformava in Devole I will have you follow me to hell Come closer And we'll see you Come closer And we'll see you I'm nothing as simple as a phantom You have spilled blood It is time to atone for your sins And I have come to connect For the spot in Francia For the Spagna Un po' di miscogli Di stati Personaggi Just like the other times Just like the other times Un bel paciugo And we need to find somewhere to come to my senses Not now It is not my time yet If I take lives I do so for justice To struggle is futile I am death I am everywhere I am always When I am sick To claim a soul in his name I take it None escape Unfortunately for you I know where my soul will be out of reach I told you already My time hasn't come yet Su Mamma mia Bleh Andiamo un po' Cazzo fatta Guillermo è tutta una questione di prenderà tempo il tasto direzionale un'ora che guardo firmate per il rischio un po' di sicurezza per spendere la notte tanti effetti shader giusto per dare una scena giusto un po' tipo spagnolo che dicevo prima ah ok ok dicevati ok ok vabbè chi se ne frega esco e come li spendo qua no ancora un punto sventra tua si vai ok si oh porca miseria vabbè evito anche questa ok adesso qua ci prepariamo l'assalto al pasterno qu'è m'ha avevi no le no no non ma Uh, rileve themselves of the mantlets before we use them. Curse of Franceses. Did you really win wars with stupid orders like that? You'll be glad for it soon enough. The wet hides protect the wood from flaming arrows. You don't want to end up roasted like a heretic on a steak, do you? Take cover! Now's our chance. Let's go. They think they can kill Esteban Noviembre. I'm a steak. They consume me. You talk too much, Spaniard. You should save your strength. Let's move, Spaniard. Relax, hombre. Stay to me. No harm will come to you. Oh, is that so? Oh, I didn't tell you. I was born under a lucky star. A lucky star? Haha, I'll believe it when it comes down and wields my sword for me. We're still alive. Let's go, man. It looks like they're going to kill me. I've heard that Flanker called you on the bell. You and I, a caballero? Just call me Dex. Haha, you're a caballero. Tell me, what brings a highbron to you to the battlefield? Dragging this piece covered like wood to the mud, like any old person. Well, thrill of adventure, of course. You're no different, are you? Take cover! We're almost there. Don't give up on me now, Spaniard. Just a second, Fred. Maybe we can pick off some of these archers. Don't stay out there too long. You'll make an easy target. All right. Oh, my God. I will kill you in the brink of the battlefield. Oh, shit. 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 ieri 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 non saranno a matare se stai come vedete ce l'auto era ieri 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 che si potrà pensare a se staccare sulle iiErro le manteggiudci credo che siamo明ili li blocazzi antes di ogni più. Volevo cambiare se... come cazzo verticale si è guarda, spieghi questa porta o ti uccidio! guarda! guarda! scusate! ancora! siamo nemmeno passi magari è compatibile con il potere della 360 OOOH! OOOH! VOLESI! CHEARGE! Ucciditi tutti questi uccidini! Vieni, Spaniard! È tempo per vedere se stai davvero in realtà! Sì! Se vuoi ci sono molto più salvo. Ah! la funzione artificiale mi fa asquanto scusida si muoiamo lo stesso verso lo stesso verso per tutti va bene fight them back men fight for your land you call your own here we are men let's clean this place out non scusare la rotella per selezionare le armi ha ha bullseye non scusare la rotella per selezionare le armi non scusare la rotella per selezionare le armi ah fuck this is my castle and my men shall defend it to the death your castle is as good as as slaughter them all the seas will run with your blood ah as 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 Cosa fa il cura? Attualmente l'interazione con l'ambiente è nulla Quante corsie Non vedo ancora Voglio fare Aspetta i particellari progrendi Questa non sa non c'entra Spiede la caccia Ovviamente l'ha avuto come un destroyer Ma quella lancia di solito in filza Vabbè Alla diablo Basta Alla diablo Alla diablo Delgaisi non possono stoppare a noi! Lo scusate! clicchiamo in visualizzazione, non posso dire esistere, non posso dire esistere non posso dire esistere Sì! 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 e spero che migliori andando avanti perché non mi dice proprio niente a This weapon's no good anymore! This weapon's no good! c'è il visuale di merda sto affrontando il trap ma c'è l'ho ok la sua quest come close well it seems you know how to wield a blade now let's see if you can wield fire half as well madre dios this nightmare the spaniard might be surprised to me the powers are commonplace Quindi tu anche sei vero! Due ragazze della scuola, ma non fa differenza. Non ti permette di accettare quello che ho avuto la mia vita per proteggere. Amo ancora un sogno? Hai proprio visto la mia vita? È un sogno. Ma è più vero di quello che pensi. Si vuoi vivere! Hai un ragazzo! Io ti permette! Io ti permette, ma tu ti permette un'esplannazione! Io ti permette di risposta alle vostre domande in più. Ma ora, per ora, puoi provare questo demonio a tornare! Questo sarà il tuo pezzo! Tutto qua? Béle, ti dicono? Quindi sei il suo figlio di Jean de Béle? Mi capisco ora perché il tuo padre aveva così tanto credo in te. Cosa? Tu conosci il mio padre? Tu devi dire! Martin, è stato un tempo molto. Boniface di Montferrat, quando ho scopo che Bardois ha vissuto il mio castello, ho scopo che aveva lavorato nella tua scuola. Tu sei rilievo di vostra servizio, mercenari? Bardois, prenderli loro a l'encampmento e pagare loro generosamente. La battaglia è wonta. Ma lord, questo è... Ho parlato. Tu lavoro qui è finito. What? What do you mean? Leave us before the coffers are emptied e tu perdure la tua parte. Let's go, Esteban. Il mio vecchio amore, il mio vecchio amore, il mio vecchio amore. I know you've hidden the relic somewhere in questo castello, ma tu dovresti più morire di prendere la mia mano, potresti non? I will make sure that is exactly what happens. Tu fulglie! Do you think I'm stupid enough to have kept it here? I gave it to a man who deserved it, more than I. But I have seen the sun shine greater than even that night. Boniface, you imbecile! Son? Enough of your blasted riddles. Who is the son you speak of? Tell me, Martin. Your agent of the world will bring you to your demise. You'll talk, or you'll die! De Bale? Where is the young De Bale? You gave him notice, milord. He took his gold and left with that Spanish friend of his. What? Damn, did he say anything about where he was going? Be at ease, sire. Benz de Bale is going to the Chateau de Cree to take part in the jousting tournament. It seems he wants to enlist in the forthcoming crusade. The Chateau de Cree. So, the young De Bale seeks his father, who never returned from Jerusalem, and the crusade is his shot in the dark. He must know where to look. That is... excellent. Oh, vediamo come inizia la prossima missione. Se migliora, non so. Allora, vediamo cosa possiamo. Spada una mano. Spada una spada due male, va? Mi piace. Ok. Sì. Due morti, una storia. Morti, una storia. Fermati di qua, fermati di là. Danz, wait! Are you sure you want to do this? The Crusade is the only hope I have of finding my father. If I want to enlist, this tournament is my best option. So you're going to fight? All to make the other caballeros notice you? Yes, but it is a jousting tournament, and I will have to declare my knighthood to enter. De Antonio. Aren't you going to need a squire? Every night with his old husband. Esteban, I've enjoyed our camaraderie, but our journey together ends here. Good luck. Ah! Bah, mi salto anche questa, va. Boh, qua mi fanno allenare. Ah, mi salto anche questa, va. Ah, mi fanno fare su torneo qua. Now begins the melee trials. Here enter the Lord Deng de Bale, and his companion of arms, Esteban Noviembre. Their adversaries will be the Lord Antonius de Fougère and Caribert de Monseigneur. Ma che cazzo gli nomi ce l'hanno. Look up there, Esteban, in the box. At a Geoffroy de Villahadois. He chooses who goes and who stays. I must shine if I want to get recruited. I've got a bad feeling about this crusade thing, Oviembre. But I have a debt to repay. I'll help you shine. Come on! 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 Sì, alla fine non si trattato per premere ripetitamente per continuare a fare la stessa mossa Fiamo di giocare a diavolo Faro 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 Ficurato Faro Faro Secondo me la cooperativa merita molto di più. Certo che dopo aver visto The Witcher 2, vedere questo fa un po' buono. Allora, direi che prima abbiamo visto nel gioco mi sarete fatti migliore. Speriamo solamente chi migliorino davanti. Ciao a tutti.